Quando hai deciso di entrare nel campo della moda? La moda è sempre stata parte della mia vita, visto che mia nonna, mia grandmonna, mi ha cresciuto e mi ha portato questa passione siccome lei era una sarta professionista e lavorava per diversi brand italiani della moda. Ah, bene, è interessante. E questa è la prima sottotitura della moda. Questa è la prima sottotitura che ha aprenduto a sottotitura. Caraca, ho una piccola! Questa è solo la parte della sottotitura della sottotitura, perché la vecchia è l'ultima cosa con il padello. Mi piace! Ok, cool!